La Sestito Academy of Martial Arts è una palestra e accademia nel settore dell'insegnamento arti marziali, difesa personale e preparazione atletica, grazie alla professionalità e competenza ventennale del maestro Vitaliano Sestito. La Sestito Academy si trova a Bastia Umbra in provincia di Perugia, punto di riferimento per gli appassionati e gli sportivi che vogliono un personal trainer e una consulenza individuale nel settore arti marziale. Quindi ti aspettiamo in zona industriale Via dei Tilti numero 17 a Bastia Umbra Perugia, Sestito Academy of Martial Arts ASD, telefono 338 5407090, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 22, il sabato dalle ore 9 alle ore 18. Non sprecare il tuo tempo a pensare come dovresti essere. Allenati duramente per ottenere i risultati. Alla fine della giornata guardati allo specchio e chiediti se hai dato tutto. Amici carissimi dell'Umbria Veri di Giada, salve a tutti. Un appuntamento insieme al nostro carissimo maestro vitaliano Sestito con allenamento e arti marziali. Oggi con il maestro parleremo di Muay Thai. Che cos'è? Grazie di essere qui. Oggi parliamo di una disciplina che non è solo arte marziale ma anche sport da combattimento. La Muay Thai, chiamata anche Thai Boxing o box tailandese per la traduzione in italiano. Trae la sua origine appunto, come dice la parola stessa, dalla Thailandia ed è specializzata nelle percussioni, quindi nei colpi di pugno, di calcio, di ginocchio e di gomito. Viene praticata anche questa in massima sicurezza e con la possibilità di essere fatta da tutte le fasce d'età. Quindi non solo con una finalità agonistica ma soprattutto con una finalità di difesa personale e anche di sport sui generis. Quindi per praticare movimento in una maniera divertente e sicuramente sana. Chi lo può praticare? Come dicevo appunto tutti, a partire dai bambini, ai ragazzi, fino agli adulti, fino a chi vuole solamente avere una formula diversa per potersi allenare e anche imparare a difendersi. E come si svolge una lezione? Una lezione tipo prevede appunto il riscaldamento e delle tecniche di preparazione atletica generale e poi una parte tecnica specifica. Quindi si studiano i pugni, i colpi non solo tirati a solo ma sul sacco, a coppie, si lavora sui calci, sul corpo a corpo, sulle gomitate e sulle ginocchiate. Benissimo, quindi ringraziamo il maestro Vitaliano Sestito. Vi ricordo che la Sestito Academy si trova in Via dei Tigli numero 17 nella zona industriale di Bastia Umbra, Perugia. www.sestitoacademy.it Facebook ci potete trovare lì, 338 54 07 090, chi volesse parlare direttamente con il maestro Vitaliano. La palestra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22, mentre il sabato dalle 9 alle 18. Tutto.